Diminuiti rispetto allo scorso anno, causa coprifuoco nelle ore serali per l'emergenza sanitaria ma anche per via degli alberi più spogli, comunque una piaga, quella dei furti di olive in campagna. Ad Andria, capitale dell'olio extravergine, ma anche nell'intero territorio a nord di Bari, soprattutto nella zona di Terlizzi, dove la Col di Retti ha chiesto l'intervento del prefetto. Bande organizzate riescono a portare via in pochi minuti anche 50 chili di prodotto e questo comporta una perdita di reddito per i proprietari. I controlli delle forze dell'ordine non mancano costante la presenza del consorzio delle guardie campestri. Credo sia necessario convocare immediatamente e sotto questo aspetto sono d'accordo con Savino Muraglio, presidente regionale della Col di Retti, un tavolo con la prefettura di Bari che coordini tutte le prefetture sul territorio regionale ed incominciare a discutere di una vera e propria riforma del sistema della vigilanza campestre in questo territorio, in questa regione, che è sostanzialmente una caratteristica peculiare della Puglia, non ha altri riferimenti sul territorio nazionale. Deve essere eliminato l'assenza dello scopo di lucro, deve essere eliminata la impostazione giuridica di associazione senza scopo di lucro, va riorganizzato e rideterminato il tutto necessariamente con la collaborazione delle organizzazioni professionali di categoria, che non possono apparire e comparire solo quando si tratta di gridare al ladro, al ladro, ma che devono essere anche parte attiva nel sostegno e nel mantenimento in vita di questi consorzi.